Intervista al miglior giocatore della settimana, prima giornata Snow Cup, Luca Rapia di Eurogun Boys, migliore della settimana. Complimenti Luca, cosa si prova ad essere nominato miglior giocatore della settimana? So che forse questa è la prima volta che lei viene nominato miglior giocatore della settimana. È la prima volta anche perché, ripeto, ribadisco, è la prima volta che me lo fanno vincere. Ah, che noi di solito non lo fanno mai vincere. No, a me mai, è un po' impossibile. Stranamente, vabbè. Vabbè, però diciamo che me lo sono meritato, anche comunque, giustamente, tutta la squadra abbiamo corso tantissimo. Abbiamo vinto una partita che sembrava persa, quindi oggi ci ripetiamo. Ricordiamo perché oggi ci ripetiamo. Gli spettatori a casa non sanno di cosa stai parlando. Lo sanno, lo sanno. La prima giornata, ci sono anche persone che si collegano dall'estero, 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 da Sider, che l'estero è calcio champagne brasiliano. Prima giornata di campionato, Huracan Boys contro Real CKP, partita terminata 5-4. Grazie, diciamo, si può dire, alla ottima prestazione di Luca Lapia, che è stato anche accompagnato da un buon portiere di Smuelo. Comunque, com'è stata quella partita? È stata decisiva? La sua prestazione ha inciso molto sul risultato oppure è stata pura coincidenza? No, penso... Modestia a parte ha inciso parecchio sul risultato. Scusa, non si risultato. Le parole da bocca, amici. Luca, ti lo dedichi a questo premio? A tutta la squadra. Qualcun altro? Dai, dai, dai. Come Mario il tuo disco. Su, su. Su, su, dai. C'è una persona di Puerto Rico. Alla mia ragazza. Alla ragazza. Manuela Zinno si chiama. Ah, tu addirittura. Ringraziamo Luca Lapia, complimenti per il mio giocatore della settimana e un saluto da Carlo, Max e Luca a tutti i ragazzi della Slow Cup. Ciao ragazzi.